oh questa volta io col nero nota che prima sulla francese non ho giocato la linea su cui stai preparando che non dico qual è tu non dire niente che già stai dicendo troppe cose adesso ho capito che andrò cioè proverò a eliminare dai che così rientrami in una pir piccola però tu non mi fai rientrare cioè scusami a te piace la pirca e tu l'ho giocata per ahimè l'ho giocata per anni ma ti giochi 4 non ho un problema bravo bravo non chiedermi per quale motivo però in gioventù mi sono ritrovata a giocare la pirca non molto bello che tu dica in gioventù quando c'hai voglio dire sei del 99 no quindi non c'hai neanche 20 anni in realtà so anche quando fai gli anni il 26 come mai te lo ricordi così mi distrai ecco perché te lo ricordo l'ho cercato nel frattempo per distrarti esatto nel frattempo apposta l'hai cercato esatto ecco vedi dalla chat giustamente franco di mare dice una cosa sensata cioè che tu forse in una diretta addirittura dicesti non sono del 2000 sì sì l'avevo precisato nella nella scorsa diretta ecco ecco sì giusto per discriminare un po' i 2000 sì un po' lo meritano diciamo però va bene vabbè ogni tanto ci sta essere essere cattivelli sì che poi tutto questo a proposito adesso luigi vedevo in chat che diceva quando torni replichiamo io a novembre sarò di nuovo in quel di pisa e firenze tra virgolette perché aspetta mi sta venendo questa funziona ci penso perché andrò a giocare il florence move a cui mi hanno invitato bravo quindi quando è che è il florence move? dall'1 al 3 novembre quindi sarò a firenze e giocherò l'open b perché non ho voglia di giocare l'open a e perdere punti ho voglia di vincere l'open b facile come fanno tutte le persone ha detto che ha voglia di vincere quindi partirà subito il sondaggio Romualdo riuscirà a vincere l'open b? secondo me non si discute la mia vittoria a quel torneo vado lì e stravino vabbè andrò a vedere i pre iscritti e ti farò sapere la mia opinione no tu mi raccomando mi raccomando no 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 sto dicendo tu mi raccomando cercati i miei avversari allenali e poi fammi perdere sì 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 assolutamente la mia vittoria la do per sicura sì 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 no è già scritto che ma secondo me se non parti in quel torneo con l'idea che devi vincerlo non ha senso dici che non vinci no non vinci senti io voglio fare cavallo per b5 però mi devo fermare sì fermati un attimo mamma mia cavallo per b5 quanto è bello vabbè ok mi sono fermato è stato difficile bravo capisco che sia stato difficile però è giusto sì allora nel frattempo momos chiede cosa voglia dire vmfi lo spieghi tu tea così ti distraggo bravo distraimi allora il mio titolo vuol dire woman international master che è il secondo diciamo più importante dei titoli femminili mentre il suo che è fi è istruttore fide che è un grande titolo vedi io per esempio dovrei fare un corso di questi per diventare istruttore fide perché tra le cose che la gente non sa di me c'è che l'anno scorso sono diventata istruttore capo però quello è un titolo che vale per quanto riguarda la federazione italiana perché sono diversi i titoli italiani da quelli della fide e quindi secondo me dovrei fare un po' entrambe le cose in modo tale da essere più completa che poi non so bene beh diciamo per una giocatrice della tua levatura secondo me ha senso fare prendere il titolo fide perché comunque insomma perché sì anche perché potreste avere degli allievi internazionali quindi sì infatti tra le tante cose mi sa che che comunque le lezioni le farò anche in inglese quindi se qualcuno ci sta seguendo sappia anche quello senti io c'ho una voglia di sacrificare madonna c'è dai sacrifica tutto madonna non hai idea guarda autistico mi fa piacere che dalla chat dicono che che te istruttrice la scoperta è la settimana che lo so che faccio il rito che non sembra che io possa farlo però vi assicuro che anch'io posso farlo senti in realtà quando qualche diretta fa abbiamo analizzato anzi sì abbiamo analizzato diciamo dai la direttata la partita che hai fatto all'europea con il grande maestro quella lì no alla gente è piaciuto tanto e a me anche assolutamente è stato molto molto lineare il modo in cui hai spiegato la partita e c'è gente che diciamo durante la insomma durante la diretta l'ha detto quindi secondo me ci sta tutto che tu ti metti a fare l'istruttrice bravo questo mi fa mi fa moltissimo piacere che poi io scherzando dico sempre che visto che ho due genitori insegnanti risisterebbe anche che ce l'avessi un minimo nel sangue certo ma senza scherzare è così non lo so io ci spero sinceramente però non so se crederci o se è una cosa di cui mi convinco apposta aspetta che mi vuoi fregare quindi mi devo concentrare un attimo Lady Gaga nel frattempo dice che vuole una lezione in inglese prenota penso che il mio inglese faccia più ridere di qualsiasi cosa no a proposito del tuo inglese scusa no parliamo di una cosa seria bravo tu parla mentre io sto prendendo matto mi devo come faccio non che schifo a proposito dell'inglese di Tea c'è stato il famoso episodio di quando ero intervistata nel 2017 novembre 2017 a Tarvisio ero piccola era la gioventù in cui ha detto Deconi non ero schillata non ero schillata mi è piaciuta questa questa è bella non è schillata molto bella come termine mi hai fatto perdere 20 secondi così però racconta del Deconi dai esatto sì durante l'intervista parlava dell'Olimpico Miti che è appunto il Coni però in inglese ha detto Deconi quindi questa cosa ha fatto molto ridere un po' eh sì e vabbè scusate però cioè non è che il Coni sia così facile da dire o fai lo spelling delle lettere le dicette in inglese fai il figo e poi ci tengo a precisare che era un video intervista per il quale io non ero assolutamente preparata perché poi c'è gente dopo che mi ha chiesto ma scusa ma tu le domande le sapevi prima e la risposta è assolutamente no perché sappiate che Romualdo non ve le dice mai ma no ma assolutamente è falsissimo quello che dici io assolutamente ti ho ti ho detto prima te l'ho fatta vedere pure no perché perché dici queste cose che poi la gente ci crede no vabbè però Delconi Delconi no sei tu che hai tirato fuori il discorso Delconi no mi stai facendo prendere matto in tutto ciò sto prendendo matto fantastico vai te la prendi matto sacrificati per la per la patria sicuramente mi sa che patta? no si dai ti do la patta eh si vai ti do la patta subito eh no ma mi hai distratta ma non vale patta dai ma che bello bravo adesso ti posso mettere scusami sono stato io ti posso mettere il pollicino in su che sei stato un avversario corretto oh solo per questa volta lo faccio solo per questa volta e poi poi basta poi basta adesso lo metto anch'io perché sennò poi non sarei corretto bravo sono stato un avversario correttissima precisiamolo e ho scritto anche in chat good game non so se hai notato perché c'è stupcom ha queste feature ma anche a me lo dici queste cose interessanti bellissimo bella partita anche ti ho risposto bella partita sì sì per niente è finita questa cosa però mi sa che è nuova come molto recente ieri ho giocato con uno o ieri o l'altro ieri non mi ricordo ho giocato con uno che ecco queste sono le cose che mi fanno incavolare di più perché avevo la donna in più sono lentissima no cioè comunque si è notato e giocavamo sempre ah no giocavamo a tre secchi quindi senza incremento e vabbè tipo tre mosse al matto il tipo gioca per farmi cadere la bandierina quindi lì ok vabbè puoi essere magari ci sono diverse correnti di pensiero ci sono quelli che dicono che online ci sta se giochi a tre minuti farla cadere però diciamo che sei la donna in meno non è che sia proprio correttissimo però se tu decidi di fare così perché dopo mi scrivi in chat e scusami no no mi scrivo mi chiedi scusa cioè o mi chiedi patta al massimo o non è che mi scrivi scusami vabbè cercava di recuperare no c'è un po' tipo di sì ma era per dire che io ero talmente incavolata che ho chiuso la finestra e io volevo dire no non ti scuso non ti scuso per niente è giusto è giusto bisogna fare così quindi sono contenta che chess.com abbia messo queste cose belle molto positive così almeno la gente un po' si 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 fa finta no di essere sportiva e è giusto Grazie a tutti.